Niente applausi al triplice fischio, ma solo tanta indifferenza, da parte del pur numeroso pubblico dello stadio polisportivo di Belluno nei confronti, della Dolomiti Bellunesi. E d'altronde, è difficile dare torto a quanti hanno assistito ieri pomeriggio ad una prestazione scialba da parte della compagine provinciale di Serie D, sconfitta 1-0 da quel levico terme che addirittura proveniva da due capò consecutivi e si trovava un punto dietro. Tutt'altro che un avversario imbattibile, quindi, ed invece, con l'unico tiro in porta giunto al minuto 53 da parte di Moraschi, i gialloblu hanno fatto proprio il bottino pieno. La Dolomiti Bellunesi si era appena lasciata alle spalle la quasi epica affermazione di Caldiero in 9 contro 11 e puntava alla quarta vittoria nelle ultime 5 giornate di campionato. Eppure al di là di un buon avvio di partita, in campo non si è visto più nulla, se non troppi lanci lunghi e una sola chance capitata all'84esimo a Corbanese, il quale ha calciato sul portiere. Queste quindi le parole del tecnico Diego Zanin a fine gara. Abbiamo fatto una partita scolastica, dove abbiamo avuto predominio anche del gioco, il primo tempo soprattutto, ma poco cattivi sotto a porta. Loro con un tiro in porta, mezzo tiro anche secondo me, ho portato casa intera apposta, in piacere la Serie D, e dopodiché abbiamo prodotto un po' di confusione, tanti passaggi sbagliati, tanti cross sbagliati, tante situazioni. La partita è sempre aperta, però buona volontà, ma troppo scolastice secondo me. Domenica diventa quindi già quasi cruciale lo scontro in casa del Charlene Samuzane, ultimo in classifica con 11 punti, nonostante le ambizioni di promozione palesate in estate. Ma anche la Dolomiti Bellunesi, con le sue 13 lunghezze, tanto meglio non sta.